Benvenuti nel mio canale, qui troverete molti, molti video. L'email la trovate nelle informazioni del canale. L'ho messa lì e è anche un po' nascosta, proprio per evitare alcuni problemi. Ad esempio ricevere dello spam. Grazie per la visione! 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 Buon pomeriggio a tutti! Benvenuti in questo nuovo video! Oggi per la visione! Grazie 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 per la visione!